Megatron è un tipo piuttosto malvagio. Tutto ciò che vive su questo mondo sprofonderà nel caos! D'altronde il desiderio di distruggere l'esercito degli Autobot per conquistare il somma potere renderebbe scontroso chiunque. Distruggeteli! Trovare un valido aiutante non è un'impresa facile. Incapace! Quindi ora Megatron fa affidamento su colui che viene definito... Il più implacabile cacciatore di Autobot! Gli Autobot faranno meglio a stare in guardia perché stanno per ritrovarsi faccia a faccia con un Predacon!